I tifosi scaricano Ronaldo, la panchina, meglio Ramos. Ronaldo deve stare in panchina perché abbiamo giocatori giovani e con una mentalità diversa. Più freschi. CR7 ha avuto il suo tempo, credo che manchi al gruppo, ma può entrare negli ultimi 15 minuti. Il CT Fernando Santos ha dimostrato di avere polso. I tifosi del Portogallo scaricano Cristiano Ronaldo. Dopo averlo idolatrato per così tanto tempo. Ora, nei cuori dei lusitani ci sono le giovani promesse da conacrare. Prima tra tutte, l'attaccante del Benfica che ha preso il posto da titolare dell'ex Juve, Gonzalo Ramos. Classe 2001. I tifosi del Portogallo, Cristiano Ronaldo. Ora c'è Gonzalo Ramos intervistati fuori dallo stadio. Dopo il roboante 6-1 alla Svizzera, i supporters rossoverdi hanno argomentato, Gonzalo Ramos sta avendo una buona stagione in Portogallo. Ma è giovane. Però ha risposto sul campo e ora deve giocare. E, ancora, forse parleranno meno di Mbappé e cominceranno a parlare di Gonzalo Ramos. Deve fare ancora strada rispetto all'attaccante del PSG, ma almeno si parla di qualcuno diverso. I tifosi del Portogallo, Fernando Santos ha dimostrato di avere polso una nuova presa di posizione che va addirittura oltre i campanellismi, sono dello sport in Grisbona. Il club dove è cresciuto Cristiano Ronaldo. Ramos, invece, è cresciuto nei rivali del Benfica. Ma chi segue il campionato portoghese sa chi sia l'attaccante migliore del nostro paese. Punto. Punto. Infine, le motivazioni tattiche, il Portogallo senza Cristiano Ronaldo è più agile e ha più opzioni di gioco. Questa è una squadra con più profondità, che può arrivare fino in finale. Virgola.